l'ha fatto approfittando del fatto che ovviamente qua non c'ho una connessione decente per giocare online a PES è entrato nel mio MyClub e ha fatto un bordello di quelli esagerati ciao bella a tutti da me mi ha mandato un messaggino su whatsapp per informarmi della situazione e ve lo metterò ovviamente in sovrimpressione mi ha detto carissimo ti ho appena speso tutte le monete MyClub ma io se non mi ricordo male ho sputato c'avevo tipo 3000 monete MyClub se non anche di più ha fatto a pulire e ha spacchettato come se non ci fosse un domani con la gente della Roma c'erano possibilità elevate di prendere giocatori importanti ma mi ha detto che non mi ha preso assolutamente nulla sarà vero? io spero di no spero che mi ha preso almeno una leggenda perché c'è stava Totti perché c'è stava Battistruta perché c'è stava Cafu perché c'è stava i detoshi nakata nakata che dirsi voglia quindi che cosa vado a fare in questo video vado a vedere le registrazioni che mi ha mandato voi non potete capire quanto ci ho messo per scaricarle queste registrazioni che mi ha mandato perché? perché c'ho i giga del cellulare che mi stanno per finire qua c'ho una 1 mega con 0 3 di upload è stata tutta stanotta scaricata di conseguenza vediamo lo spacchettamento e vado a fare la mia reazione in diretta quindi 3 2 1 20% di pallone nero eh quindi ah mi fa pure vedere Battistruta, Cafu, Totti mamma mia ragazzi miei Totti 91, Battistruta 92, nakata 89 comunque veramente tanta tanta roba e poi ovviamente tanti altri calciatori della Roma un agente speciale messo a disposizione dalla Konami proprio per i tifosi della Roma quindi vediamo vediamo 2800 monete my club l'animaccia tua va bene eccolo qui questo è il primo il primo spacchettamento ovviamente lo sappiamo tutti campionato italiano calciatore della S Roma e pallone oro quindi niente da fare Spinazzola, Spinazzola, ci faccio assolutamente niente con Spinazzola 81 the overall diciamo per collezione mi pare che mi mancava ma va bene così ok quindi prime 100 monete my club perché perché questo è un pacchetto speciale con 100 monete my club se potevano pescare calciatori ad oltranza fino a che uno aveva ovviamente monete monete my club e è stato il signorino è stato bravo è stato bravo ha fatto a puli proprio eccolo secondo secondo calciatore sempre campionato italiano ovviamente stiamo parlando solamente i calciatori della S Roma ma non stiamo parlando solo i giocatori della S Roma ma che pacchetto è rega io sto fuori dal mondo col my club ma che c'entra Milinkovic Savic scusa ma non è un pacchetto S Roma se vede che non ha propesso online my club da una vita eh vabbè vabbè ok Iconic Mo ma perché ci sta evidentemente non è solo la gente di calciatori da Roma allora ci stanno anche altri vabbè Milinkovic Savic bene vediamo andiamo avanti sono proprio all'oscuro come direbbe Mario Magnotta vediamo infatti vedi ci stanno i calciatori da tutta l'età quindi che c'è è campionato italiano è tutta la serie A praticamente ci stanno solo calciatori da Roma va bene Froila Froila che arriva nella mia S Roma ovviamente nel mio account non ci faccio minimamente nulla e andiamo avanti calciatori di livello 1 paga con monete my club il signorino va a confermare guardate come ha spacchettato proprio vai altro calciatore sempre ovviamente campionato italiano almeno qualche pallone ne ecco questo è un altro calciatore della Roma ovviamente ma è pallone oro mi sembra è Schmalling Schmalling non è Schmalling non è Maling 81 mamma mia ragazzi Schmalling 81 ma Schmalling come minimo 87 88 ma di che stiamo a parlare uno dei migliori calciatori della serie A vai vai Fabio vai fammi ridere o fammi piangere raga non mi ha pescato veramente la leggenda io lì per lì quando mi ha mandato il messaggio ho detto vabbè mi starà più in giro ma te pare che non mi ha pescato una leggenda sicuramente una leggenda della Roma me l'ha presa ragazzi c'è stata un'arte di 7 minuti dei video più c'è stato un altro video non so quanto dura vediamo questo chi è è dell'Inter è dell'Inter mi sembra chi è questo aspetta che non vedo il nome Brozovic Brozovic è l'oce l'edizione speciale altro che 83 c'ho tipo il Brozovic a 93 94 roba del genere oppure bello pompato quindi ce faccio assolutamente nulla vai guardate come ha spacchettato quest'altro guarda proprio ha rotta de collo ha avviato la registrazione sulla playstation e via come se non c'è fosse un domani altro calciatore della S Roma andiamo a guardarlo no della S Roma del no è del no è del Milan è del Milan oh sono fissato questi pacchetti della Roma e Fly Emirates Milan number 21 aspetta che è Ibrahimovic 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 ma mi sa che ce l'avevo già mi sa che Zlatan Ibrahimovic ce l'avevo già se non ricordo su uno degli account l'ho pescato sicuramente oh ma Zlatan Ibrahimovic si che c'ho una squadra molto più forte là davanti è però insomma anche Ibrahimovic essendo un pallone nero non è che mi che mi dispiace poi così tanto comunque 20% probabilità di pallone nero qualcosina finora me l'ha me l'ha presa sicuramente poi quel Milinkovic-Savic mi pare che già ce l'ho posso utilizzarlo per pompare quello più forte insomma vediamo pallone oro Juventus chi è pallone oro? ah che avrei quello che ho preso al fantacalcio che era meglio che impiavo perché veramente ha fatto ha fatto ride i polli rabbio rabbio sapessi quanto pensavo a rabbio io quando quando ho visto quelle prestazioni sì vai non te voglio mi dispiace ma non te voglio non te faccio giocare perché c'ho molto molto meglio 84 dove roll c'ho il vizio che fa così sulle cosce c'ho un po' freschetto stamattina andiamo avanti ragazzi è già andato a me l'ha pescata è già andato a me l'ha pescata ragazzi miei siamo a 5 minuti dei video 5 minuti di video cioè ma voi vi rendete conto che questo mi ha preso e mi ha ciucciato 2800 monete MyClub così come niente fosse non c'è proprio più il rispetto per i fratelli che è qua che ha preso Wallace 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 ma mia ragazzi Wallace va bene dai Wallace Wallace dai andiamo avanti paga con monete MyClub e conferma dai sono fiducioso dai che esce una leggenda 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 è una leggenda ovviamente perché deve fare già mi sono scordato è troppo tempo che gioca il MyClub mi sono scordato che all'inizio deve fare la figura leggenda è Gollini è Assistini è Rigorini 24 anni mazza non hanno fatto tanto forte eppure Gollini sono 78 Gollini ma Gollini è più forte che 78 minimo 83-84 va bene paga con monete MyClub e conferma ancora 100 monete MyClub ma guardate che mi ha combinato Stim fame ma ancora MyClub quindi non è una leggenda ha proprio ciusciato tutto completamente ha preso e oh della Roma pallone nero ed in Dzeko ed in Dzeko no si è lui è lui ed in Dzeko ed in Dzeko mi sa che c'è l'edizione speciale 90 e quindi con l'86 ci posso fare l'allenamento lo converto ma io non mi ricordo perché c'ho talmente tanti account che non mi ricordo tutti i calciatori che c'ho sul mio account quindi va bene quando tornerò a casa ovviamente l'ora di Giocappesse ragazzi mi ambedo l'ora di Giocappesse a MyClub perché ora sto a giocare ovviamente solo offline perché questo da qua mi posso permettere il MyClub a me manca veramente tanto altro calciatore oh di che squadra è è del 1000 di Gio Donnarumma ce l'ho anche Gio Donnarumma eh ma ci ho giocato un bel po' quest'anno a Pesse Gio Donnarumma ce l'ho questo è 85 io c'ho il 92 91 se non me sbaglio lo posso dire sempre se sta su sto account e non sta su un altro perché posso anche sbagliarmi ovviamente sto a gestire tre account contemporaneamente più c'è anche quello di Fabio che ogni tanto faccio pure io qualche infamatina a sto giro chi d'è infamata ferisce d'è infamata perisce no berisce ecco un altro MyClub quindi non è una leggenda mamma mia ragazzi veramente mi ha ripulito veramente mi ha ripulito ecco che dati è è è è non mi interessa è è non mi interessa andiamo avanti mamma mia ragazzi guardate come come cioè veramente una vita può accumularle tre secondi per per togliere tutte queste monete MyClub altro calciatore siamo con aspetta è Lukaku ragazzi 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 è Lukaku mi pare che pure questo ce l'ho versione potente ma posso utilizzarlo per convertire comunque qualcosina mi ha preso certo non mi va a migliorare quella che è la mia rosa che c'ho attualmente perché ce l'ho veramente forte però uno dice oh ma speso tutte se monete MyClub almeno qualcosina me l'ha tirata fuori ovviamente avrei preferito e sperato io ce l'ho Totti ma è quello più scarso io vorrei quello più forte ossia quello che sta su sto pacchetto qua se non mi accontenterei anche di un Gabriele Omar Battistuta calciatore della della Lazio è Correa ragazzi miei è Correa ce famo assolutamente niente pallone oro è passata la Lazio a Roma e ride vieni vieni vedi la tifuseria come l'accetta andiamo vabbè con la roba comunque l'hanno accettato andiamo avanti giorgiamo i miei paga come MyClub e conferma mamma mia Fabio mio non me lo sarei poi ho aspettato un mese e mezzo capito alla scordata delle scordate proprio non so come gli è venuta a mente se sarà sbagliato sarà entrato per sbaglio nell'account mio dice mo lo faccio lo pulisco ecco la castagne toglie le castagne dal fuoco non mi interessa su mannala avanti manca un minuto quindi penso ci sarà un altro pacchetto o al massimo due e poi c'è un altro video ma quanto può durare 3.000 monete 2.800 ha fatto 28 pescate regamo che ci sto a pensare ha fatto 28 pescate con 2 seco 28 pescate ma ha fatto che è questo faress ma dove è andato faress ok penso che un'altra 50 secondi sarà un'altra pescata non di più vediamo ci mette pure tempo tra l'altro nel nel caricare eccolo qui siamo sempre a campionato italiano ok calciatore del Milan a pallone oro non ci faccio assolutamente nulla è Cialanoglu è Cialanoglu che comunque è giovane e allenabile guardate sarà pure stufato alla fine guardate come andava avanti 82 di overhaul e me sa che fa un'altra spacchettata mamma mia ragazzi miei Gabriel Gabriel ragazzi il mio carissimo Gabriel e questa registrazione è finita quindi io chiuderei e andrei all'altra parte ma quanta spacchettata andiamo a vedere 4 minuti e 48 3 2 1 vai lo faccio perché mi serve per sincronizzare perché se no poi ovviamente essendo una registrazione la sto guardando in diretta allora paga con mani di MyClub e conferma proprio sta a leva tutto vai dice come se non ci fosse in domani MyClub regà MyClub niente abbiamo capito che da sto pacchetto le leggende non escono fuori non te le danno manco a pagare le oro eccolo chi è questo è Rogue e per carità nella realtà è un buon calciatore ma se è 78 capite bene che uno lo può usare giusto se ha appena cominciato il MyClub se no ma io che ce faccio con calciatori del genere non ce faccio assolutamente nulla e si va avanti si va avanti perché il Goodfebio proprio oh guarda cioè non ha guardato un faccio a nessuno ha preso vai pallone oro è e si è Beriscia è stracoscia è gioco di parole Beriscia stracorza no va bene stracoscia della Lazio poi paga con monete MyClub confermiamo mi sono stufato ecco ho spostato la sedia mi sono stufato pure di guardare perché tanto ho capito che la leggenda non la tirerà mai fuori passano i minuti ragazzi stanno per terminare e quindi ecco là pallone argentone questo chi è Audero ma Audero non è così scarso non è solo 78 nella realtà secondo me a mio modo di vedere come minimo è un 83 384 però vabbè ancora guardate guardate come si è divertito cioè no niente ragazzi certe volte sembra perché aspetta quell'attimo dice ecco molto tira fuori là niente ecco là un'altra volta Gabriel mamma mia quante volte ha pescato Gabriel cioè a forza di pomparlo con Gabriel convertito lo faccio diventare più forte di Neuer di Donnarumma di Audero di Oliver Kahn Kahn è forte qua comunque leggenda niente ancora My Club mamma mia ragazzi miei tutte queste monete My Club buttate calciatore della Sampdoria è Torsby Torsby leggenda proprio manco manco per sbaglio eh questo perlomeno è Daro è Mancini Ottà mamma mia Fabio mio cioè proprio le ultime boom 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 cioè non so se avete fatto caso sono rimaste 420 monete My Club 420 monete My Club regà regà mi ha levato tutto regà mi ha levato tutto 420 monete My Club mamma mia Fabio questa me la paghi Lukic mamma mia 320 monete My Club regà 320 monete My Club regà 320 monete My Club sono diventate 2 e 20 che è sto coso che è sto coso che è sto coso ma non ha dato ma non ha dato leggenda ma non ha dato ma non doveva dar leggenda ma mi ha pescato Cafu ma ha pescato Cafu oh ma Cafu è la belva ce l'ha pure lui tra l'altro dai perlomeno Cafu volevo Totti ma ce l'ho già anche se è più scarso ma ha trovato Cafu ragazzi mi ha trovato Cafu guardate che abilità controllo palla 86 possesso stretto 85 passaggio alto 88 velocità 86 ragazzi i miei Cafu è veramente sicuramente uno dei terzini più forti della storia della serie A e uno dei più forti del gioco senza ombra di dubbio 91 di overhaul e quindi ah quelle 220 monete per i club me le ha lasciate mi fa bene ah vedi mi fa pure vedere la mia formazione attuale Neuer De Ligt Sergi Roberto Varane Jordi Alba Chamberlain Fabinho Cross Salamba Per Ronaldo e sotto ovviamente abbiamo il Francesco Totti abbiamo altri calciatori insomma sto Cafu messo là tra Sergi Roberto e lui posso alternare anche Sergi Roberto ovviamente è forte ma essendo tifoso da Roma che faccio ma non te lo vado a mettere Cafu è ovvio che te lo vado a mettere quindi alla fine me l'ha pescata infame mi ha detto che non l'ha mai pescato niente invece Cafu me l'ha trovato quindi è servito acqua mi ha lasciato 220 monete my club ma c'ho 687.000 GP preparatevi perché quando torno a casa ragazzi miei facciamo lo spacchettamento tutti quelli pazzeschi facciamo live facciamo partite online mi manca veramente tanto giocare online a PES quindi lasciate tanti mi piace su questo video per quelli infame per quelli infame commentate condividete iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti attivate la campanella per non perdervi tutti i miei nuovi contenuti vi ricordo che c'è la possibilità di abbonarsi vi lascio tutte le info in descrizione e nel primo commento bloccato in alto vantaggi esclusivi ovviamente per gli abbonati e detto questo niente mi ha fatto venire ancora più voglia di tornare a casa e di giocare non mi avessi pescato caffù sti cavoli ma visto che ho visto caffù visto che ho visto caffù la voglia di tornare a giocare a PES online è veramente tanta alla prossima ragazzi miei caffù caffù è bugiardo che non sei altro ciao